Sei pronto? Sì Ehi tesoro Ciao ragazzi Vorrei parlare Non è in coma Non sanno come definirlo Ora! Sono stata in camera di Dalton C'è qualcosa lì con lui Dalton! Dalton! Conosco qualcuno che può aiutarvi Abbiamo controllato i campi magnetici della casa Impianti elettrici e sveglie Non credo che il problema sia l'impianto elettrico Voglio andarmene! Voglio andare via da qui! E' malefico! E' lassù! Che cos'è? Non è la casa che è infestata È Dalton È Dalton E' un'altra cosa che è infestata E' un'altra cosa che è infestata